buongiorno a tutti anzi buonasera buonanotte che dir si voglia comunque sono appena terminate le partite di champions ma ne parleremo nella giornata di oggi successivamente dopo il corso eccetera dopo le sei mi metterò a fare il riepilogone della champions faremo le schedine bollettine del gigione per l'europa league e la conferenza eccetera 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 adesso ci occupiamo innanzitutto del derby di serie b monza como poi faremo un bel riepilogone della serie a e poi se riesco visto che domani mattino anche la sveglietta presto alle 8 e mezza che c'è il corso dalle 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 18 quindi nella giornata di mercoledì cercherò se riesco di farvi anche la questione del del fantacalcio ma tanto quella non ci corre dietro nessuno magari la farò successivamente tanto c'è tempo fino al prossimo weekend comunque monza como monza como con un primo tempo in cui il monza veramente ha fatto il bello il cattivo tempo ha segnato due gol ha preso due pali un como irriconoscibile un como brutto 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 o monza meglio dire un monza troppo forte o monza forte perché è sempre giusto dare i meriti alle altre squadre che non dare ne meriti alla propria diamo dei meriti anche alle squadre che in quel momento lì giocano meglio vanno in vantaggio due volte col debi mota che segna due gol assi due veramente due gol assi e sembra una partita a senso unico dopo la fine del primo tempo no nella ripresa ci si aspetta magari che il monza cali l'acquaterna segna altri gol eccetera e invece finalmente viene fuori il como che si fa sotto prova ad accorciare le distanze accorcia le distanze col capitano bellomo pareggia con vignali su cross di parigini e poi prova anche a vincerla la partita perché tendenzialmente nella ripresa il como ha fatto forse qualcosina di più e certo rispetto al primo tempo che ha fatto il monza non c'è paragone poi proprio negli ultimi minuti machine si inventa il gol della domenica un golasso anche questo un tiro dalla da casa sua che si va a insaccare all'incrocio dei pali col povero portiere del como che manco se ne rende conto brutto perdere così brutto brutto veramente brutto 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 perdere così all'ottanta all'ottantottesimo perché ripeto se dovessimo guardare il primo tempo il como me l'ha strameritato di perdere ma visto che nella ripresa l'ha ribaltata e tendenzialmente ha fatto qualcosina di più del monza non in una maniera perché l'ho intravista la partita avevamo stavamo vedendola sul televisore ha voluto mettere il tennis intanto che aspettavo di vedere internappoli tanto finiva giusto alle sei la partita del como e l'abbiamo vista sul tele sul sullo smartphone del del nostro amico quindi la vedevo e non la vedevo però vedevo che i blues come si suol dire stavano attaccando di più rispetto al al monza che ripeto nel primo tempo danny motta sembrava un fenomeno poi dopo è venuto fuori il como e c'è poi arrivato quel gol di machine adesso la classifica è sempre libidine perché comunque la classifica del coma è buona lo stesso ripeto forse questa sconfitta anche se è brutta fa stare un attimino tranquilli no perché l'obiettivo con che continuo a dire è una salvezza tranquilla cioè arrivare a quei 40 45 punti che servono per essere tranquilli il più presto possibile poi si può pensare a puntare a qualcosina di più se c'è ancora la possibilità perché ripeto fino all'ottavo posto puoi andare ai playoff però il como non è quello il suo obiettivo il como è stare in questa posizione di classifica tranquilla in zona magari playoff in modo che magari se sei ancora lì in decima posizione non la posizione undicesima posizione a pochi punti dalla zona playoff a un mese dalla fine del campionato poi puoi farci anche un pensierino ma se andiamo ai playoff vogliamo i playoff eccetera eccetera fai la fine che sta facendo il pordenone quest'anno pordenone l'anno scorso è arrivato al in semifinale addirittura ha rischiato anche di andare in serie a quest'anno ha già un piede nella nella lega pro quindi è sempre meglio stare schisci programmare bene le cose non correre poi capisco che i comaschi abbiano voglia di serie a è normalissimo lo vedo qua nell'aria nell'aria c'è già sono esaltatissimi che sono tornati in serie b che si torna a respirare un'aria un attimino più più di calcio ecco per intenderci non che in lega pro non si respiri però non la lega pro non è che la consiglierino più di tanto in televisione adesso cominciano ad apparire su sky fanno vedere le partite su sky sei nella cosa calcio di sky e quindi cominci a riprovare quella quella bella sensazione che piace anche perché il como minimo deve stare in serie b ma ce ne sono tante di squadra che minimo dovrebbero stare in serie b e non sarei in lega pro però purtroppo 20 in serie a e se non erro 20 in serie b non è che ne possiamo mettere 40 e 40 quindi questa sconfitta che è brutta perché arrivata con sto golasso all'ultimo nanosecondo dopo che l'avevi ribaltata e dopo che hai tentato anche di vincerla magari può essere utile per non far fare voli troppo pindarici al como stare tranquilli perché le prossime due partite sono pesanti sono col parma se non sbaglio poi c'è un'altra partita tosta successivamente e quindi scusate è un attimo è bastano tre sconfitte e si torna in zona pericolo così come bastano due vittorie si torna a sognare però piglio domenica per domenica settimana per settimana gustandosi questa serie b respirandola gustandola giocandocela partita per partita senza fare troppi proclami senza pensare a nulla di eclatante ma cercando di onorarla e di arrivare as soon as possible come dicono gli inglesi a quella quota salvezza che tu dici bene sono arrivata alla quota salvezza adesso pensiamo possiamo provare a pensare in grande perché quello è il primo obiettivo poi perché se si comincia a sognare troppo poi si vuole strafare si vuole esagerare si comincia a dire questa la dobbiamo vincere quest'altra la dobbiamo vincere dobbiamo entrare in campo per vincere poi finisci che la perdi e poi ti trovi nelle basse nelle zone basse invece le zone basse le lasciamo al crotone al pordenone eccetera 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 detto questo ragazzoli fatemi sapere se avete visto la partita se pensate che è stato solo un incidente di percorso che è il primo tempo che un primo tempo così brutto non lo si vedrà più e se questa sconfitta è più positiva o negativa nel senso come spiegavo prima fa stare un attimino coi piedi per terra la squadra senza fargli fare voli troppo pindarici o se invece era meglio se la si vinceva perché così si poteva volare ancora in alto soprattutto perché so che tra monza e como non corre come si suol dire buon sangue un po come tra brescia e bergamo no per intenderci tra atalanta e brescia detto questo io vi saluto vi ringrazio vado a preparare un altro video che riguarderà invece la serie a torniamo del dell'elite dopo aver parlato comunque del como che ripeto lo sto seguendo proprio perché mi hanno adottato io sono ormai la gay da nove anni abbondanti e quindi giustamente seguo anche la squadra comasca ciao